Ma che bella settimana, ma quanta armonia che si respira in Serie A questa settimana e in questo periodo. Allora, la grande domanda che tutti ci stiamo ponendo in questi giorni è il campionato è stato effettivamente falsato? La risposta è ni, nel senso che si sta dicendo tutto il contrario di tutto. Allora, fino a ieri, giornata in cui Marotta aveva sbottato dicendo il campionato è falsato, qui è un macello, l'Inter è il problema, il calendario è intasato, eccetera. Io avevo una certa visione della situazione, nel senso che era evidente che l'Inter fosse quella che tra le squadre che si stanno giocando, degli obiettivi particolarmente importanti, fosse quella un po' più condizionata ma semplicemente perché si ritroverà tra breve ad avere un calendario molto molto fitto. Oggi però leggi la risposta della Lega Calcio che in sostanza dichiara con grande chiarezza che era stata proposta all'Inter la possibilità di giocarla lunedì e che l'Inter l'ha rifiutata. Quindi in sostanza gli hanno detto, a nada fa accusa da un'altra parte. Questo che cosa ci dice? Che siamo di fronte alla solita piacevolissima anarchia tutta all'italiana in cui tutti dicono tutto, in cui nessuno prende una posizione, in cui nessuno decide niente che poi è lo stesso problema che si sta vedendo anche a livello nazionale non solamente per quanto riguarda il calcio, riguarda questa crisi del virus. Io ho la sensazione che il vero problema, che poi è riconducibile a tutto sia la mancanza di una persona che decida con condizione di causa e per tutti. Cioè noi abbiamo mille mila figure che dovrebbero decidere e tra queste mille mila figure incaricate di prendere decisioni e pagate per prendere delle decisioni non ce n'è una che poi al momento del bisogno prenda queste decisioni. Il problema di fondo è questo. Per cui tutti dicono tutto, tutti si lamentano di tutto ma nessuno decide o fa nulla di concreto. Il vero punto in questo momento è che il campionato così non può andare avanti. Perché che facciamo? Ogni domenica facciamo l'estrazione di chi gioca poi facciamo l'estrazione di chi gioca a porte aperte e l'estrazione di chi gioca a porte chiuse e poi così, vediamo come va. No, non si può fare così. Ma allo stesso tempo io trovo paradossale che in questo weekend ci siano partite sospese a distanza di 20 km ci sono partite che si stanno giocando a porte aperte. Cioè, trovo allucinante che abbiano sospeso Inter-Juventus ma che poi tra qualche giorno si giochi la Juventus con Milan in Coppa Italia. Cioè, la zona è sempre quella. Stiamo sempre al nord Italia. Quindi se ci sono gli estremi per la cancellazione di una partita ci dovrebbero essere per tutte. Se non ci sono, non dovrebbe esserci per nessuna. Anche lì, il fatto che la Lega dica eh, noi abbiamo proposto all'Inter di... e loro hanno rifiutato non va proposto niente in alcuni momenti. Se questo fosse vero. Se gioca il giorno tot, te va? Sì, non giochi? Persa a tavolino. Cioè, non vedo il motivo per cui si sta creando sempre l'opportunità di cavalcare il caos. Ma torniamo sempre a Bomba che poi è una cosa che io ripeto in tanti contesti, in tante occasioni. Mancano delle regole chiare da seguire. I protocolli, i cosiddetti protocolli. Che vuol dire? Cosa si fa se succede questo? In Italia non c'è. In Italia non c'è un protocollo per nulla. E lo si sta vedendo, chiaramente. Perché si adatta la situazione e le regole al momento. Non si può fare. Perché poi succede il macello. E ci tocca sopportare il complottismo di un sacco di gente che ancora, nonostante l'età adulta, non ha ancora capito come funziona il nostro paese. Quali sono i problemi del nostro paese? No, è più facile andare in giro su internet, sui social, su ibar a dire no, il complotto, la cosa vogliono fare e il servo di quello, il servo di quell'altro, e quello venduto e quell'altro. È patetico. È patetico che la gente, pur di non rendersi conto di quelli che sono i problemi reali, debba trovare il colpevole più fantasioso manco fosse una puntata di una serie tv fantasy. Cioè, veramente, è ridicolo ritrovarsi in questa situazione e dover, oltretutto, oltre a tutte le rotture di valle che sono legate a questa situazione, sopportare anche i complottari. Ah, verso, giù, destra, sinistra, amico di questa, amico di quell'altro. Se voi vi fate un giro, fatevelo, veramente, vi fate due risate, fatevi un giro su YouTube in questi giorni, scrivete, che ne so, Inter-Juventus o Juventus-Inter, manco me, mi ricordo che giocava in casa, o che ne so, Lazio prima in classifica, andatevi a vedere che razza di gente ti ha anche da questi giorni. È una cosa che tu dici, ma sta gente vota come... Il voto delle staggette vale quanto è il mio? Sì, purtroppo sì. Staggette respira il mio senso dizio? Purtroppo sì. Ecco, perché... Io voglio credere che la maggior parte delle staggette sia fa spettacolo, perché se dovessi credere che questa gente crede realmente a ciò che dice, saremmo forse messi in una situazione peggiore rispetto a quella che molti crediamo di vivere. Però resta il fatto che il campionato è chiaramente in crisi, è chiaramente alterato dalle situazioni, ma è alterato anche e soprattutto dal fatto che nessuno sta remando nella stessa direzione. Ognuno fa i propri interessi, come nella più grande tradizione italiana, e nessuno pensa al bene superiore, che è quello di proporre un campionato regolare, che è quello di dare al mondo un'immagine di normalità per far sì che non si abbiano conseguenze a tutti i livelli. Purtroppo, vivendo in un mondo fatto di apparenza, il calcio è un ottimo biglietto da visita per far capire che un paese funziona o no. E se noi palesiamo questa totale incapacità di gestire la situazione, anche a livello calcistico, facciamo una bellissima figura, che si ripercuoterà sia in ambito calcistico sia in ambito lavorativo e professionale per tantissime persone. Quello che non si sta capendo, legato al calcio, legato al... Il modo in cui si sta gestendo questa crisi nazionale, avrà delle conseguenze abominevoli per migliaia di persone normali, che si trovano a dover pagare mutui affitti e che più ne ha più ne metta, e che anche grazie a questo modo di gestire il calcio si ritroveranno in gravi problemi tra qualche mese. E non è Ah, stai esaspirando il concetto del calcio. No, ragazzi, perché il calcio è il primo biglietto da visita di qualsiasi nazione del mondo occidentale. Se non funziona quello, tu dai un'immagine di assoluta incapacità gestionale, che si riflette su tutto. Io mo' non me voglio metterli a fare il momento tragico, ma è la sincera verità. Ce ne renderemo conto, purtroppo, a distanza di qualche tempo. Comunque, ragazzi, tornando al calcio vero e proprio, speriamo che la situazione torni alla normalità. Io personalmente non capisco neanche perché non si stia posticipando la Coppa Italia piuttosto che il campionato. Cioè, si poteva tranquillamente dire ok, recuperiamo alcune partite mercoledì, posticipiamo la Coppa Italia, quella ci si pensa, sono tre partite in croce, no? Allora, lì io penso, forse lì ci sono interessi economici maggiori per qualcuno e allora lì non si può toccare, però la logica anche lì imporrebbe di posticipare la Coppa Italia e poi ci pensi. No. Siamo al... Come viene? La mano dentro al sacco e peschiamo quello che tocca a fare. Comunque, ragazzi, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Parliamone serenamente, ripeto, io continuo a essere delirai che i complotti non ci ne siano. che è folle pensare che ci siano semplicemente perché sarebbe un sopravvalutare un sacco di gente. E io non sopravvaluto nessuno in questa situazione, anzi. Per cui, niente, fatemi sapere e noi ci vediamo. Alla prossima.